La Fondazione Cassa di risparmio Il Fondazione Cassa di risparmio di asti ha acquistato nel 2000 Palazzo Mazzetti, uno degli edifici storici più significativi della città, con l'obiettivo di farne un importante polo di attrazione culturale e ha affidato il progetto di ristrutturazione all'architetto Giovanni Bo. L'intervento sul Palazzo Mazzetti ha richiesto particolare cura d'attenzione. Problemi importanti sono stati quelli di carattere strutturale, altri di carattere impiantistico e altri ancora di carattere funzionale distributivo. C'è stato un importantissimo contributo da parte di tutte le sovrintendenze che con le loro visite periodiche in cantiere hanno fornito elementi ed indicazioni importantissime per lo sviluppo di tutto il lavoro. Il 18 aprile 2009 è stato inaugurato il primo lotto di lavori di restauro di Palazzo Mazzetti. All'interno dell'ala orientale del palazzo, oggi aperta al pubblico, sono proposti allestimenti provvisori, scegliendo tra quei nuclei collezionistici già studiati e con opere in gran parte restaurate. Uno spazio dedicato alla sintesi della storia delle collezioni è ospitata nel Salone d'Onore, dove figura uno dei dipinti simbolo delle raccolte astigiane, La Femme di Giacomo Grosso. La visita prosegue nei locali ornati dai pregevoli stucchi di Metà Settecento e si conclude con le micro sculture di Giuseppe Maria Bonzanigo, raccolta importantissima, nuovamente visibile al pubblico. Ci troviamo a Frinco, un comune a pochi chilometri da Asti, che fu antico feudo dei Mazzetti, che furono prestatori di denaro e mercanti. Per alcuni secoli Frinco fu un'isola di giurisdizione imperiale all'interno dei possedimenti sabaudi e qui i Mazzetti ebbero diritto di conio. Nel 1442 i figli di Domenico Mazzetti, originario di Chieri, comprarono i diritti del feudo e il castello che vedete alle mie spalle. Ad Asti, Palazzo Mazzetti testimonia l'affermazione nel contesto sociale della città di questa famiglia di nobili origini. A partire dal Seicento, i Mazzetti iniziarono l'opera di accorpamento degli edifici medievali dell'isolato di Corso Alfieri. Fu attorno alla data della visita di Carlo Emanuele III di Savoia, nel 1727, che si concentrano i lavori di riplasmazione degli edifici medievali, le cui strutture sono ancora visibili sotto il rivestimento. La lapide e il busto della Galleria di Ponente ricordano i lavori commissionati da Giovanni Battista Mazzetti tra il 1727 e il 1730, mentre il resto dell'edificio è una costruzione nuova databile agli anni 1751-1752 e si deve a Giulio Cesare Mazzetti l'affidamento a Benedetto Alfieri del progetto di rinnovamento dell'Ala Est, comprendente lo scalone, salone d'onore e i quattro ambienti successivi. Siamo nei sotterranei di Palazzo Mazzetti e qui abbiamo ritrovato più di tre metri e mezzo di accumuli, sedimenti, depositi, di terreno, rifiuti, un accumulo che l'archeologo legge scavandolo in senso inverso rispetto al tempo in cui si è depositato, dallo strato più recente allo strato più antico e in questo modo ha la possibilità di ricostruire la storia del luogo dove ci troviamo. Le città in cui viviamo, infatti, sono il risultato di una sequenza di vita che si è mantenuta per la durata di molti secoli sempre all'interno della stessa area, determinando una differenza di diversi metri tra il livello originario e quello attuale. L'archeologia stratigrafica unita agli strumenti che le scienze fisico-chimiche le offrono è lo strumento di lettura più completo in parallelo all'esame dei documenti storici di cui si disponga per la ricostruzione della storia di un complesso edilizio e quindi della città in tutti i suoi aspetti. Al di sotto delle nostre città, delle case e dei pavimenti su cui camminiamo, c'è un giacimento da proteggere e da esplorare. Basta un attimo perché scompaia, ma va salvato perché contiene la memoria del nostro passato. Gli scavi archeologici sono partiti nel mese di febbraio 2006, in parallelo con i lavori di recupero e restauro del palazzo e hanno portato in luce a più di tre metri di profondità dal piano stradale attuale fondazioni murarie, pavimentazioni, sepolture e molte centinaia di reperti mobili che vanno dall'epoca della fondazione di Asta, al tardo medioevo e alla prima età moderna sopravvissuti alle costruzioni delle cantine sei-settecentesche. Il ritrovamento di alcune imponenti strutture murarie d'epoca romana fa presumere che ci si trovi sul margine orientale dello spazio pubblico principale del centro urbano, cioè la piazza del foro. Quest'ipotesi sarebbe confermata anche dal ritrovamento di un'epigrafe con dedica al Collegio dei Fabri, l'associazione professionale più importante della città che qui doveva avere la propria sede. Accanto ad almeno due fondi di capanne seminterrate, sono state individuate sei sepolture, mostrando la progressiva disgregazione del tessuto urbano all'inizio del medioevo tra VI e X secolo. Questo periodo è infatti caratterizzato dalla perdita di organizzazione urbana, compresa la mancanza di definizione delle aree cimiteriali. Lo splendido pettine in osso di età Longobarda è l'unico oggetto che abbia accompagnato uno di questi defunti. Il restauro di un edificio antico è un'occasione irripetibile per la nostra conoscenza storica. Storia dell'architettura, ma anche della cultura materiale, dei modi di vita e degli usi alimentari, attraverso gli innumerevoli reperti che vengono ritrovati in occasione delle indagini archeologiche. Durante le fasi di scavo, ogni elemento ritrovato viene dettagliatamente documentato, viene numerato e fotografato. Per ogni elemento individuato viene compilata una scheda di unità stratigrafica che contiene la descrizione delle sue caratteristiche, la sua localizzazione, le sue misure e il suo legame con gli altri elementi circostanti rinvenuti. Un rilevatore, poi, ha il compito di elaborare un rilievo in scala che riporti anche le quote altimetriche sul livello del mare di ogni singolo elemento ritrovato. Prima di iniziare lo studio dei reperti mobili rinvenuti, è necessario che tutti i frammenti ceramici vengano estrapolati e lavati. Una successiva selezione per classe e inventariazione di tali frammenti unitamente al vaglio di tutti gli altri reperti permette di separare i reperti più significativi e rilevanti. I frammenti che si ritiene necessitino di un restauro vengono quindi trasferiti in laboratorio, dove restauratori specializzati provvedono, con strumenti adeguati, alla loro cauta ripulitura dai depositi di terra, al loro consolidamento e, dove possibile, a piccole integrazioni. Fondamentale per lo studio dei reperti ceramici è il loro disegno, attraverso il quale è possibile ricostruire la forma e le dimensioni dell'oggetto come era in origine. Durante le indagini archeologiche sono stati ritrovati alcuni resti osse umani, che opportunamente preparati per il trasporto, sono stati trasferiti in un laboratorio specializzato per essere sottoposti ad analisi antropologiche. I resti scheletrici di Palazzo Mazzetti di Asti sono arrivati nel laboratorio di antropozoologica per essere sottoposti allo studio antropologico. Perché studiare i resti scheletrici umani? Certamente non per soddisfare delle curiosità macabre, ma perché questi materiali ci possono offrire una serie di informazioni che possiamo definire di prima mano sulle condizioni di vita delle popolazioni del passato. In primo luogo, le ossa devono essere ripulite da ogni minima traccia del terreno di giacitura. Quest'operazione può essere fatta sia lavando le ossa stesse sotto acqua corrente quando le condizioni di conservazione sono buone, oppure pulendole a secco con degli spazzolini o specilli. Quest'operazione è necessaria per poter riassemblare fra loro i frammenti delle varie ossa. Soprattutto i crani, infatti, nella maggior parte dei casi non si rinvengono integri, ma suddivisi in frammenti, spesso anche di piccole dimensioni. Si passa quindi alla determinazione dell'età alla morte e, nel caso degli adulti, di quella del sesso, attraverso le caratteristiche morfologiche di alcune ossa, fra le quali sono molto importanti quelle del bacino. Successivamente le ossa vengono misurate con degli appositi strumenti che sono il compasso a branche dritte, il compasso a branche curve, la tavola osteometrica e il mandibulometro. Dalla lunghezza delle ossa degli arti si può risalire alla statura in vita di quell'individuo. Queste sono naturalmente soltanto le prime fasi dello studio antropologico completo. Dal punto di vista architettonico, l'intervento di restauro ha comportato puntuali consolidamenti delle volte ai vari piani, il restauro delle coperture, delle facciate, delle pavimentazioni del piano nobile e, infine, la valorizzazione del percorso sotterraneo. I restauri degli apparati decorativi degli ambienti sono stati preceduti da una campagna di saggi stratigrafici. Il risultato di queste indagini ha permesso di individuare ai piani nobili la presenza di quattro fasi sovrapposte, non conservate però integralmente nei vari ambienti. L'unica scelta possibile per l'intervento di restauro delle superfici decorate è stata quella di recuperare le cromie noviocentesche presenti sulle volte e sugli stucchi, attraverso il consolidamento, la pulitura dell'esistente e l'integrazione delle lacune. Per quanto riguarda le pareti, le tappezzerie in dammasco rosso del salotto sono state restaurate e mantenute, mentre negli altri ambienti, al posto di quelle mancanti, è stato riproposto un tessuto in tinta unita in accordo con le finiture degli ambienti. Le operazioni di restauro hanno naturalmente coinvolto anche le sovrapporte, le boiserie, gli arredi e i dipinti delle collezioni. Questi ultimi sono stati poi collocati all'interno di un percorso espositivo inteso a valorizzare l'importanza delle opere e la dimensione museale che l'edificio ha acquisito nel corso del Novecento. Rispetto all'ala orientale, gli ambienti ad occidente mantengono ancora le caratteristiche di una dimora storica nobiliare, arricchita da redilinei dorati, boiserie, specchiere, chiambrane, sovrapporte. Sulla volta sono ancora presenti affreschi e stucchi realizzati da importanti artisti che lavorano nell'astigiano. Tra questi si ricordano i dipinti di Salvatore Bianchi realizzati per la Sala dello Zodiaco. Così, al termine dei lavori di restauro, Palazzo Mazzetti sarà di nuovo visitabile nella diversificazione dei suoi contenuti, da dimora storica a museo, da sede di esposizioni temporanee a luogo di incontro e di cultura di grande rilievo per la città. di grande rilievo per la città. di grande rilievo per la città. di grande rilievo per la città.